Salve a tutti ragazzi, siamo proprio qui, dobbiamo prendere l'idolo che si trova qui E poi spero che finisca questo gioco molto presto, perché sinceramente ho diverse cose a dire su Siberia purtroppo, su Siberia 3 Allora, Kate se mi fai fare qualcosa... Ragazzi, dobbiamo utilizzare qualcosa Io, per ignoranza, prima utilizzerei gli oggetti e l'inventario, perché altrimenti io non ho idea di dove andare Siccome ho un posto abbastanza grande, siccome ho visto che è abbastanza strano questo gioco, probabilmente potrebbe workare questa idea, quindi vediamo Non è il coltello, è il fidato coltello, vabbè, la bevanda è inutile Sciarpa A questo punto avremmo... Ok, vabbè, vabbè Cosa fai? Ma la sciarpa è quella che ha il collo? No, vabbè Ma lasciamo stare Quindi ragazzi, aveva un'infinità... Aveva un'infinità di oggetti che potesse usare su quella bacheca Ma siamo seri? No, vabbè Adesso devo esplorare la zona Perché, ragazzi, vi giuro... Ma che era sangue? Che era quel coso? Ok Abbiamo le lenti Cioè, ragazzi, guardate dove si trova Su questo tavolo già io credo ci fosse qualcosa... Esatto Poteva prendere qualsiasi cosa e gettarla da dentro, tanto chi se ne frega è un'area... Ma pure questi Disabitata Non l'avrebbe cagata nessuno Penso che qua... Non ci sia nulla Ok, ora dobbiamo andare direttamente nella piscina E ci vediamo lì, ragazzi Ok, ragazzi Siamo nel tempio Yukol Che in realtà è la piscina Credo che dovremmo salire Qui su E provare a mettere quelle cose Suppongo Vediamo Che ne manca uno Qui, allora Eh, non so se i miei occhiali... Ok, ne manca uno, ragazzi Cacchio E chi ce l'ha, quest'ultimo? Forse dobbiamo tornare da Kirk Why not join us, Dunyasha Dubrovskaia Tika Your places with your people With the migration Once I would have been honored Oh guide But Someone needs to put all of the future caravans on the right path to the temple And make sure that the people who wanted to destroy it can never do so And I promised on my father's deathbed that that person would be me There may be another way I don't think so Oh guide And anyway I can't really see myself living far from the spirits of my family Madonna And the trovas I thought one day I'd meet an actual descendant of the previous migration Thank you Thank you for letting me meet my cousins A yuko wall hanging Almeno c'era un dialogo, ragazzi A Zara He just got a light I don´t think I can find a more It ain't It was kind and I'm just kidding You didn't You don´t think I could put me I could show you After stuff I I don't see It has Ma che cos'è? Sti simboli li ho visti nel diario Forse il nome è Cantica? Ah no Potrebbe essere questo Allora aspetta ai ragazzi che faccio una foto E' l'ultimo glifo che lui ha posto Allora Andiamo indietro Indietro Il primo Allora aspetta ai ragazzi che faccio una foto Allora aspetta ai ragazzi che faccio uno ragazzi io sto andando veramente a tentoni non riesco a capire che sto cercando di mettere tutte le lettere ragazzi se qualcuno mi spiega perché io ho fatto proprio a tentoni ho preso lettere di qua lettere di là è da due ore che sto uscendo pazza non riesco a capire veramente non ho capito perché questo no per capire cioè perché io veramente non non lo so dopo mi vedo pure in post produzione perché veramente ragazzi non ho idea ho provato a mettere qualcuna che mi ricordava tipo quella degli spiriti e qualcuna e poi le ho messe tutte le ho provate tutte a scendere cioè ragazzi è impossibile ok ah specchi adesso apritelo apritelo mi sento quasi in final fantasy in questo momento aiuta ad aprire il tempio ma come dovrei fare ah ok sembra divertente se non fosse che i comandi facessero schifo oh allora muovi di qua non posso ovviamente che perché non posso ovviamente Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh mio Dio. Terribile. L'enigma peggiore della storia. Con la tecnicità... Ah! Vabbè. Il mouse che flippava, la tastiera che flippava. Guardate, là dentro ci deve essere oro. Ragazzi. Nel prossimo episodio entreremo in quel tempio e vedremo che cosa c'è. Per questo episodio può finire qui, io non ce la faccio più. Non so se taglierò, metterò canzoncine simpatiche, non lo so ragazzi. Veramente. Sto impazzendo. Quindi ragazzi, alla prossima e un bacio.